Un 2024 trampolino di lancio verso investimenti permanenti per la crescita del patrimonio storico, culturale e turistico della città. E' un ricco ventaglio di cantieri, la maggior parte dei quali finanziati da fondi PNRR, quello rimarcato dal sindaco Andrea Biancani durante gli stati generali del turismo tenutisi presso della Chiara World Spaces. Stiamo investendo circa 44 milioni di euro, lo ripeto, 44 milioni di euro per riqualificare quello che è il patrimonio storico e culturale della nostra città. Mi riferisco a Palazzo Ricci, i musei civici, l'ex San Domenico dove c'era il mercato delle erbe, mi riferisco al museo e alla biblioteca livriana, mi riferisco agli orti giuli. Quindi stiamo cercando di far sì che quando verranno anche i prossimi anni i turisti troveranno addirittura un patrimonio storico e culturale ancora più forte. Dall'altra parte puntiamo molto anche al recupero di la costanza, cioè la possibilità di utilizzare sia la parte interna per renderlo visibile ma anche di prendere proprio in concessione il vallato dove potremo anche lì organizzare tante iniziative. Abbiamo fatto incontri con l'Arcidiocesi per cercare di valorizzare i mosaici, al novembre uscirà il mando per progettare il nuovo Viale Trieste, quindi diciamo che al di là di tante parole che a volte possono sembrare fumo negli occhi, in realtà questo anno è stato un anno concreto ma lo sarà sicuramente anche i prossimi anni.